I operatori turistici ci siamo fortemente impegnati... Tamponi a prezzi calmierati per i dipendenti degli alberghi e per i turisti che soggiorneranno a Pesaro, con tanto di accordo firmato tra le farmacie comunali e associazioni albergatori per renderli disponibili da subito. E ancora la questione della mancanza degli ombrelloni, molti alberghi del pesarese non sono riusciti ancora a trovarli per i propri clienti. E questo inevitabilmente ha scaldato gli animi dell'Assemblea annuale degli albergatori, tenutasi ieri pomeriggio all'Hotel Alexander Museum Palace. Una riunione movimentata, guidata da Fabrizio Liva, presidente APA, che ha visto la presenza di Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Marche Nord, e ancora erano presenti Francesca Frenquellucci, assessore alle attività economiche, e Luca Pieri, presidente delle farmacie comunali, oltre a tanti altri rappresentanti del settore, assieme ovviamente agli albergatori di Pesaro, una trentina circa. Noi siamo la prima associazione degli albergatori che abbiamo fatto l'accordo con le farmacie comunali per dare la possibilità a prezzo ridotto di fare i tamponi sia ai clienti, quindi ai turisti, che ai dipendenti dei nostri alberghi. Al prezzo di 12,70 euro contro i 18 euro. L'argomento della nostra assemblea principale è stato quello comunque della spiaggia. Questo è un problema molto importante, la spiaggia è un bene comune, quindi ci vuole uno sport anche da parte degli operatori di spiaggia affinché si vada a risolvere questo problema. Noi da parte nostra siamo impegnati molto affinché il fondo di 127.000 euro previsto per il ripascimento venisse rimpinzato e si aggiungessero i 40.000 euro che servivano per completare il progetto presentato dagli operatori di spiaggia. Da ultimo la questione del San Bartolo. La questione del San Bartolo, è stata costituita la riviera del San Bartolo, già noi l'avamo anticipata, andremo a costituire anche noi l'associazione della riviera del San Bartolo con gli albergatori di Gabicce per affiancarci ai tre comuni, Piesro, Gabicce e Gradara, nell'operatività per fare iniziative di promozione del territorio di accoglienza. Non è questo ragazzo che ha fatto anche il militare insieme.